a far crescere il vostro canale youtube mi scriverò i consigli di tutto quello che ho imparato su youtube in questi anni io vi saluto e spero di rivedervi presto comunque ragazzi questo è il filtro e se il filtro ciupacogno perchè ti assi lo slabio a bocca del pato ragazzi io prima di una beletta mi imborraccio mi ubriaco con un latte di soia e un po' di zucchero bici e niente, la sto sempre a dieta Simone mi sta guardando malissimo abbiamo in spagnolo guarda sembro un delfino cos'è che hai perso dignità grazie a me? a causa tua la figa comunque quando va a uscire mamma mia così sono proprio brutta basta con ste cuoricini la tetta possiamo dirlo quando esce il nuovo singolo? dice simona non lo so sinceramente nemmeno io non lo so non lo so un video stupidissimo accesso e quindi lo caricherò stasera tipo alle 9.00 a capo di essere un video super 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 idiota io vi lo voglio cargar e sto a nuovo cioè